All'interno della coalizione di centro-sinistra, assieme a Partito Democratico, Più Europa e Impegno Civico, l'Alleanza Verdi-Sinistra presenta candidati e programmi per le elezioni del 25 settembre, partendo da tre parole d'ordine, ambiente, lavoro e salute. Queste sono le priorità, sono i beni comuni e devono essere garantiti a tutti i cittadini, ovunque loro abitano. L'ambiente perché è la sfida del futuro e anche dell'oggi. Il lavoro perché bisogna dire basta precarietà e perché ci vuole qualità del lavoro. E naturalmente la salute perché a tutti deve essere data la possibilità di poter essere curati. L'attenzione alla persona si traduce in diritto alla casa, contrasto alla precarietà e al lavoro irregolare, salario minimo di almeno 10 euro l'ora, in una parola giustizia sociale. Noi sappiamo che anche nella nostra regione le ingiustizie sono moltissime. Intanto ancora una differenza veramente notevole tra la situazione occupazionale delle donne e degli uomini e poi le future generazioni, giovani, molto preparati, istruiti, formati, che vanno all'estero. Tra i punti fondanti è anche la sicurezza. La lotta alla criminalità, sostiene l'Alleanza Verdi-Sinistra, si vince con un programma più ampio rispetto alla destra. Dove ci sono gli spacciatori ci sono i delinquenti, quindi bisogna fare la repressione. Ma se a questo non accompagni interventi sulle questioni sociali, quindi le attività sociali che si possono fare, progetti di riqualificazione urbana, è evidente che tu fai un lavoro a metà. Ma questo non lo diciamo solo noi che stiamo da una parte politica, te lo dicono anche le autorità predisposte alla sicurezza. In ultimo, un appello agli elettori indecisi o tentati dalla stensione. Cerchino di vedere veramente, di guardare con speranza e fiducia a noi, una come me per esempio, che conosce bene la fatica quotidiana delle donne e che sa mettere al primo posto una politica vicina alle persone.